Il comune di Vieste gioca d'anticipo e anche questa volta rende note le principali manifestazioni inserite nel cartellone estivo e che saranno presentate nel corso di una conferenza stampa. In programma lunedì alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con il sindaco Giuseppe Nobiletti e l'intera giunta comunale, la capitale turistica del Gargano. Va oltre la balneazione che tuttavia resta l'alternativa principale ma come ormai accade da qualche anno pensa anche agli eventi culturali e di intrattenimento da offrire ai numerosi ospiti che da marzo ad ottobre frequentano le strutture ricettive della città, argomenta il sindaco Nobiletti. Un'altra estate ricca di appuntamenti, sottolinano invece le assessore al turismo e alla cultura Rossella Falcone grazie a Maria Starace e l'assessore allo sport Dario Carlino che possono solo migliorare e qualificare l'offerta turistica di Vieste. Sempre più punto di riferimento per una vacanza di qualità che va oltre il mare. Diverse sono le iniziative che animeranno la prossima stagione estiva. Prima dell'estate c'è però il falò di San Giuseppe, poi spazio al triathlon olimpico, un appuntamento ai principi di giugno atteso da tanti sportivi provenienti da ogni parte d'Italia. Sempre a giugno a Vieste sbarcheranno le eccellenze del mondo enologico per l'iniziativa Vieste in Rose, spazio anche al cinema con il grande festival internazionale di archeologia, arte e ambiente e poi ancora la rassegna di luglio del libro possibile preceduta dall'arrivo a Vieste di Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia. Il festival musicale Cristalda e Pizzomunno, Porto Rubino con il viaggio in mare all'insegna dei racconti e della sostenibilità ambientale, Festa Ambiente Sud, l'eco festival delle questioni meridionali e della qualità culturale che in programma tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto ed ancora Vieste in Lov a settembre fino all'orientering con il meeting internazionale del prossimo ottobre. Non mancherà poi lo spazio dedicato all'arte con la mostra personale di Andy Warhol e quella di Oliviero Toscani.